La disobbedienza è un bene necessario perché parte del presupposto che ci sia qualcosa di buono sotto e il qualcosa di buono va tutelato. È il momento che la mia generazione farà quel cambiamento che porterà poi il nuovo mondo della gastronomia e secondo me non mancherà poco. Una cosa di estremamente viscerale, un'attrattiva incredibile, un luogo che ritengo fondamentale è la mia casa, la cucina mi abita. Come potete traslare un'esperienza di alimentazione in qualcosa che potrebbe avere un significato profondo e cambiare cose?